Bentornati a Tagadà, dunque mancano quattro giorni ai ballottaggi, il clima politico diventa più caro. Allora saluto i miei ospiti, do il buon pomeriggio all'onorevole Simone Baldelli, vicepresidente della Camera Forza Italia, bentornati. Partito Democratico bentornata. Paolo Vato, Antonio Padella, ha detto che la Raggi più farà confronti televisivi più perderà voti. Lei è rimasto meravigliato. Sono molto contenta che lei sia qua perché credo che i due aspetti quando arrivano, appunto con un foglio di giornale, perché insomma a volte si deve dire... Bisogna saper dire di no, bisogna dire di no quando il paziente evidentemente ha un qualcosa che è come direttore. A Roma la cartina del voto mostrava come Giacchetti avesse avuto la maggioranza, la periferia è soprattutto per l'appendino, non è che fa sino a... Che lei dicesse qual è la sua posizione rispetto... Adorato, con Gianfranco D'Angelo, Fior d'Aliso, regia Diego Ruiz, di Osa, è un po' più giovane di me. Eh, però insomma... Diciamo... E io vorrei fare il paragone con Katrin Ebber, perché insomma è un'altra cosa. È un'altra cosa. Io sto bene, sto bene con me stessa. Sì. È proprio quello che diceva prima delle Fabrizie. È importante. Magari ci può essere veramente un risvolto. È importante. Luigi Momo. Prendi e portas a casa. Portas a casa, sì. Ah, è stata di d'azione di danaro, se lei dice... No, no, no. No, per capire, perché se fosse un reato forse mai vedi come mai. Se queste impietanti, diciamo, ma perché uno ha dovuto spendere... C'è un reattore che gli aree, ma... C'è un reattore che gli aree, ma... C'è un reattore che gli aree, ma... Eh, no, ma certo... E quello a Giambrizi è molto importante, perché... Sì, che scherzi. Insomma, certo, sono fiera di avere la mia età. Sì, perché sto bene, perché... Cioè, volevo chiedere, proprio su questo, al nostro... Di medicina sono punturine, queste cose, diciamo, meno invasive. Sì, è corretto, c'è un aumento considerevole e costante nel corso... Ben trovato, le chiedo subito... Ci invecchiamo a fare l'elenco. Le ricordo... Intervistate gli imprenditori, quello ha detto a me... Un'ulteriore manovra, e che la legge è di stabilità prossima, perché... Grandi festeggiamenti... La prossima va di pari passo con il miglioramento, però... Non fa star male la persona, e dunque è bene ricorrere anche all'aiuto... Fobia di cambiare sempre... Adesso si chiama dismorfismo corporeo nelle nuove classificazioni... La gente è normale... Poi te lo spiegano loro che non le hai passate... Il fatto, Bandelli, è che io so la gente è normale... La propria azienda, tra l'altro in un momento di crisi economica, le aziende... Dici, ma lei non era di Forza Italia, l'istra... Pensi che fegato c'è voluto per uno come me... Ci manca pure quello... Facciamo così... No, perché io poi sono tignosa, capito? Diciamo, ma non è mai stato in Forza Italia... Non è messa, io ho detto, ma è stato deputato di Forza Italia... E' stato eletto per la prima volta... Non è scontato, quindi se magari ci può aiutare... Insomma, che sono figli di una pessima chirurgia e medicina estetica, spesso non sono condotti da personale qualificato... E talvolta da personale medico qualificato... E talvolta neanche... Scorretta... Io ho presentato una mozione, tra l'altro, sottoscritta da gran parte delle forze... Quel marchio che ti porti addosso è qualcosa che non ti stacchi più, quindi se tu sbagli qualcosa ed è su internet... Lì lo trovo e quindi inevitabilmente... E censurare, se possibile, insomma, tutto quello che è fare una piega per i capelli... Ecco... ...di rigenerare i tessuti... Molto naturale che si cavalca molto... Ecco, per esempio, questo lo deve fare un chiu? Sì, no, e poi c'è una... Non voglio... Poi adesione... Un tema con l'evasione fiscale piccolissimo... Che è un modernissimo... Sì, perché dopo dentro il... A mio avviso è un po' scioccante... Per i 30 anni mi regalata a festeggiare i 30 anni... 30 anni, non stiamo a parlare... Voglio andare a parare... Che non c'è l'idea di nascondersi e non di... Adela e Fabrizio, il fatto di dirlo è perché... Mi piace il capitolo anche vacanza gratis... Saracca gratis... Saracca gratis... Beh, la cance gratis perché c'è le varie cose... Ci sono anche alcune gratuiti... Per esempio, quello di fare gli house sit... Direi la persona più prossima... Quindi il partner... Ti inducono evidentemente a migliorarti... A voler... Tutto l'aumento del seno... Credo che sia un... Un organismo psicologico del quale noi do... Caratteristica erotica... C'è sempre dei partner che hanno accettato... L'arma principale... Mangiare in maniera eccessiva... No, perché su questo c'è una... Telefabrizi, ma anche col chirurgo, ma anche con Corina... Volevo capire... L'idea che effettivamente con... Essere un'età eccessivamente bassa per intervenire... Però... In realtà è servitoso... Adesso comincia con gli oli... Le cose che uno che lavora... C'è un problema... Invece mi devi dire... Il cibo che io devo eliminare... Una cosa che... Però adesso arrivo a casa e la butto... Qual è? Un zucchero... Intanto come vi nasce questo... Un dog sitter... Qualcuno che ti va a casa... O non hai parenti... Perché c'è anche un... Il cane, ad esempio... Mi costringe a fare un'attività fisica... Di tipo modello e quant'altro... E questo è un dato molto importante... Dato importante anche... Dato importante anche...